ok brava ciao Matti che brava hai visto Matti che gioca con le sue amichette dai vai anche tu Smarty non farla timida Smarty Smarty dai adesso bisogna entrare non voglio andare mami come non vuoi andare Smarty ma è bellissimo e ti divertirai un sacco senti quanti bimbi che ci sono che ti aspettano anche le sue amichette anche la tua amica Viola sì però non voglio andare dai Smarty è sempre un po' difficile il primo giorno vero dai che andrà tutto bene Smarty ti divertirai un sacco vedrai poi appena ti vengo a prendere mi racconti tutto quello che hai fatto Smarty non vuole andare eccoci qua Blubina pronta per passare un po' di tempo con la mamma vieni piccolina certo che la casa senza Matilde e Martina è davvero silenziosissima forse anche troppo 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 Grazie a tutti. Le bimbe sono all'asilo, Glubia è tranquilla, incredibile. Asilo? Pronto? Sì, sono io, mi dica. È successo qualcosa? Ah, ok, meno male. Sì, ero già preoccupata. Sì, Martina. Sì, l'ho notato anch'io a casa. Sì, è un comportamento ricorrente ultimamente. No, no, ma infatti avete fatto benissimo ad avvisarmi subito. Sì, la ringrazio tantissimo. Poi quando vengo a prenderla ne parliamo meglio. Ok, sì, perfetto. Grazie, grazie. A dopo. Arrivederci, a dopo. Oh, smarty, smarty. Cambiamo il pandolino piccolo a Glubi che tra poco ne vado a andare a prendere Matilde e Martina. e parliamo un po' anche con le maestre. Eh sì, come sa che c'è un problema con Martina, con la tua sorellona, è vero, Glubi? Eccoci qua. E anche riallacciamo anche il body. Andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo. E' contenta che andiamo di nuovo a spasso. Glubina. Leggings. E qua ci siamo. Ecco. Andiamo. Sì, esatto. Esatto, esatto. Matti! Vai! Sì, guarda, me l'hanno appena detto. Matilde, forza! Eh sì, esatto, esatto. Loro consigliano di farlo al più presto. Vai, smarty, vai a giocare. Ti stavo dicendo prima, loro l'hanno notato subito. Sì, perché hanno visto casi simili in passato e mi hanno detto che solitamente è per quello. Sì, farebbero un controllo. E' un controllo al più presto. Infatti penso di prenotare oggi. Eh sì, sì, sì. Vediamo, dai, ti aggiorno. Sì, anche perché sta diventando piuttosto evidente come cosa. Anche io l'ho notata anche i giorni scorsi. Soprattutto quando colora. Sì. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Allora, sì, dai, che siamo appena rientrati. Adesso sistemo un po' tutto, ok? Ok. Ciao, amore. Ciao, a dopo. Ciao. Allora, come è andata l'asilo, bimbe? Sì. È andata bene, Smarty? Sì. E Mati? No. Come no, Mati? Volevo la torta. Volevo la torta? Questa cosa della torta ci sta leggermente sfuggendo di mano. E invece, Mati, cosa hai mangiato al posto della torta? Frutta. La frutta, bravissima, era buona? No, torta. Volevi la torta. Dai, adesso togliamo gli zainetti, i grembiolini, le scarpe. Va bene, bimbe? Sì. Dai, Smarty, inizia a toglierti le scarpe. Sai fare da sola, no? Sì. Dai, inizia a toglierle. Che intanto io tolgo quelle di Mati, che lei non è capace. Mati, io tolgo le scarpe. Togliamo le scarpe. Ecco qua. Capire via. Non ce la faccio, mamma. Non riesci, Smarty? No. Ti aiuto, aspetta. Guarda. Ecco qua. Forse queste sono un po' difficili da togliere perché sono alte. Il solito Smarty è abituato alle scarpine basse. Ecco qua. Vieni, Smarty, togliamo lo zainetto. Sì. Dai. Bravissima. Ecco qua. Mati, anche tu. Anche se l'hai già tolto per metà. E adesso anche i grembiolini. Smarty, riesci a sblocciarlo da sola? No, mamma. Non riesci? No, mamma. Dai, i bottoni sono un pochino duri. Ecco qua. Vai. E adesso lo togliamo. Smarty, ma sei stanca? Sì, mamma. Amore. Ecco. Pettiamolo qua. E tu, signorina? Smarty vuoi andare con Bubu. Vuoi andare a giocare con Bubu? Sì. Adesso ti aspetta Bubu. Lo zainetto adesso lo prendiamo. Così vai a giocare. Sì. Ecco qua. Tu non sei stanca? No. No. Avete giocato con i vostri amichetti all'asilo? Sì. Matti, ti sei divertita allora? Sì, con i giochi. Con i giochi. Ci sono tanti giochi all'asilo? Sì. Portato Bubu. E tu hai portato Bubu, sì? E ho portato Bubu. Hai giocato anche con Bubu? Sì. Con i tuoi amichetti? Sì. E tu, Smarty? Sì. Fatto con i colori. Amore. Hai colorato? Sì. Hai colorato l'album che c'è all'asilo? Sì. E anche i fogli. Anche i fogli. Che bello. Allora, visto che vi siete divertite, oggi domani volete tornare all'asilo? No. Smarty, amore. Non vuoi tornare? No. Ma perché no? È bellissimo invece. Matti, tu? Con Bubu. Con Bubu. Compromesso. Matti, Smarty, fatelo in breve un momento che mamma deve fare una telefonata. Pronto? Buongiorno. Vorrei prenotare una visita oculistica per mia figlia. Ok, attendo in linea. Grazie. E buongiorno. Sì, esatto. Vorrei prenotare una visita oculistica per mia figlia. Non ha ancora compiuto tre anni. Sì. Sì, sì, esatto. Sospettiamo che sì. Sì, sì, perfetto. Perfetto. Per me è perfetto. Colombo. Ok, grazie mille. Grazie mille. Allora ci vediamo giovedì. Ok. Arrivederci. Grazie. Smarty, intanto che sei sul vasino, mamma ti racconta una cosa, va bene? Una cosa. Tra qualche giorno, Smarty, andiamo da una signora che ti visiterà gli occhietti. Guarderà un po' come stanno gli occhietti di Smarty. Gli occhietti, mammi? Sì, gli occhietti di Smarty, amore. Questa signora guarderà come stanno. Smarty sta bene. Ah, Smarty sta bene. Lo dici tu? Sì. Sì? Ma guarda che dobbiamo farlo questo controllo agli occhietti, eh, Smarty? Portiamo anche i poni se vuoi, eh, Smarty? Viene con noi. Sì. Sì? Sei convinta adesso? Non voglio fare quello. Non vuoi far controllare gli occhietti? No. Eh, ma Smarty, dobbiamo, amore. Sai, Smarty, quando fai i tuoi bellissimi disegni o quando colori, magari non vedi proprio benissimo dove sono tutti i disegni. E invece questa signora, guardando i tuoi occhietti, ci dice sì, Smarty vede benissimo, oppure no, non vede benissimo e sistemiamo il problema. Non ti vedo molto convinta, Smarty, però portiamo poni. Vedrai. E non succederà niente, Smarty, non ti devi preoccupare. Non lo voglio fare, mamma. Smarty, dobbiamo. No, ma lo fa anche poni. Sì, lo fa anche poni e poi non ti devi davvero preoccupare, Smarty. Hai finito adesso sul vasino? Vieni. Eccoti qua, piccola bluvina. Pronta per la pappa, piccolina? Vediamo un po'. Vediamo un po' se Bluby è bravissima e si fa mettere la bavaglia. Eccoci qua. Adesso arrivo al latte. Ed ecco qua il tuo bibe. Brava, blubina. Brava. Dai che ti culla anche un pochino. Non dormire, blubi. Non dormire, che non è il momento di fare la nanna adesso. Aspetta che ti stai un po' sbrodolando, signorina. Aspetta un po'. Che ci asciughiamo per bene. Ecco qui, Miss Sbrodolina. Latte. Eccolo qua, blubi. Dai, che finiamo tutto. Questa cucciolina è super sazia perché è appena finito di bere tutto il latte. Vieni, amore. Vieni che andiamo dalle tue sorellone. Oh, eccoci qua.